Ciao amati dei libri, benvenuti, bentornati sul canale. Oggi c'è una piccola novità, ovvero che da oggi inizierò un progetto sostanzialmente raccontandovi la storia dietro alle storie dei libri che leggerò perché ho appurato che veramente a volte c'è tantissimo da dire, non della trama in sé ma magari di sviluppare un po' di più il libro che si legge oppure la trama storica che ci può essere dietro un libro e ho voluto provare a fare questo, per ogni libro farò qualcosa di più approfondito e quindi direi di non perdere tanto tempo in chiacchiere vi ricordo solo di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram, sul sito dove trovate tutte le recensioni dei libri che vi propongo e detto questo direi di iniziare quindi con oggi inizia la nuova rubrica di Ti racconto una storia la storia di oggi è quella di Paola Francesca io l'ho sempre adorata, è sempre stata una storia che mi ha particolarmente commosso impressionato forse perché quando l'ho conosciuta la storia era una bambina, andavo spesso a gradare in quel periodo lì quindi diciamo che l'ho anche un po' vissuta diciamo un po' di più magari di qualcuno che non sa o non è mai stato a gradare detto questo insomma presumo che la storia un po' la conosciate la conosciate un po' tutti la storia dei due amanti cognati che vengono scoperti dal marito di lei fratello di lui e appunto vengono uccisi e direi di accenni storici in effetti qua c'è molto poco nel senso che sappiamo che sono esistiti questi personaggi ma sulla storia vera di Paola e Francesca del loro amore, dell'inganno che c'è stato al matrimonio si sa veramente poco addirittura ci sono tanti punti oscuri che dicono se veramente c'è stato l'inganno se veramente sono stati più che uccisi se è quello veramente stato il motivo se non ci fosse qualcosa di più o meno romantico insomma tante cose a livello storico c'è veramente poco che vi posso dire però direi comunque che di partire presentandovi personaggi che sono per l'appunto realmente esistiti e direi di partire con Paolo detto il bello Paolo Malatesta, fratello minore di Giovanni nasce a Rimini intorno al 1250-1252 è figlio di Malatesta da Verrucchio e la sua prima moglie Concordia e tra l'altro Paolo è sposato si sposerà nel 1270 quindi prima del matrimonio di Francesca con Giovanni e anche qui tanti hanno un po' storto il naso su questa storia del finto matrimonio perché lui era già sposato quindi non so se questo rifiuto a dire che può essere successo sia dovuto al fatto che Francesca avrebbe dovuto saperlo o semplicemente perché sembra strano che sia stato fatto comunque sì anche questo è un punto oscuro che non si sa esattamente non si sa di per certo di per certo si sa che Francesca sposa a Giovanni non è ben chiaro se sia stato effettivamente per procura del fratello Giovanni o del fratello Paolo oppure addirittura che è strano che lei non lo sapesse ecco questo non ve lo so appurare se voi ne sapete di più lasciate un commento e tra l'altro ho avuto anche due figli Uberto e Margherita passiamo ora a Francesca Francesca da Polenta nasce intorno al 1260 è figlia di Guido Minore da Polenta e va in sposa appunto a Giovanni nel 1275 e da lui avrà una figlia effettivamente ha avuto una figlia di nome Concordia non si sa esattamente se ha avuto un figlio maschio che però non è sopravvissuto non è del tutto fondata questa cosa e invece adesso passiamo al terzo protagonista cioè Giovanni Giovanni Malatesta primo genito di Malatesta da Verrucchio nasce intorno al 1248 e viene chiamato Gianciotto perché era zoppo e neanche tanto bello però Gianciotto proprio dovuto al fatto che zoppicava anche se sembra che comunque in battaglia lui si sia tanto distinto cioè si è un po' riscattato in battaglia sul fatto di questo problema fisico che aveva e quando muore Francesca poco dopo va in seconde nozze con Zambrasina dei Zambrasi di Faenza da cui avrà cinque figli e morirà nel 1304 io direi che c'è anche un quarto protagonista di questa storia non è sicuro che sia stato lui c'è chi dice che era un serbo c'è chi dice che era lui Malatestino Malatesta detto dall'occhio perché in età infantile ha avuto un incidente e ha perso un occhio nasce intorno al 1254 è un altro fratello di Paolo e Giovanni e sembra che sia stato lui ad avvisare Giovanni della tresca che avevano Francesca e Paolo non si sa perché alcuni dicono appunto che era un serbo alcuni dicono che era lui non è per certo detto chi sia stato comunque sia questi secondo me sono i personaggi principali della storia ripeto realmente esistiti e direi adesso di raccontarvi un pochino la storia romanzata cioè quello che noi sappiamo ad oggi della storia di Paolo e Francesca allora la storia di Paolo e Francesca presumo che l'ha conosciata appunto un po' tutti inizia nel 1275 con il matrimonio tra Francesca e Giovanni la storia narra che anziché sposare Giovanni siccome era brutto storpio lei potesse dire di no al matrimonio si opponesse per evitare questo li hanno fatto sposare per procura Paolo che anche lì c'è chi dice che forse non è del tutto vero perché sembra strano perché Paolo era già sposato all'epoca quindi anche lì non si sa bene però la storia è questa Francesca va in sposa Paolo che per procura la sposa per conto di Giovanni ma nessuno glielo dice a Francesca ovviamente e lei si innamora come vede Paolo si innamora forse calcolando la giovane età aveva 16 anni mi piaceva leggere libri di storie romanzate su cavalieri io mi sono anche chiesta se magari lei non fosse innamorata dell'amore e ha avuto o reputava di aver avuto la fortuna di sposare un uomo bello e quindi si è completamente lasciata andare non lo so è una mia ipotesi che magari lei alla fine cioè forse se avesse sposato Giovanni magari si sarebbe comunque impegnata allo stesso modo questo non lo possiamo sapere magari però cioè comunque sia tu sai che devi sposarlo magari ti impegni forse non lo sappiamo non lo so è una mia piccola ipotesi che mi sono fatta il fatto sta che lei sposa Paolo che però in realtà sposa Giovanni quando scopre ovviamente non può più fare niente si accetta questa cosa per l'appunto dopo avrà anche una figlia sicura da Giovanni però non riesce a smettere di pensare a Paolo lei è sempre innamorata di Paolo e sembra che anche appunto Paolo comunque si fosse un po' invaglito della cognata l'andava a trovare spesso a Gradara il luogo sembra sia a Gradara perché era vicino a Pesaro e Giovanni era podestà di Pesaro e appunto Gradara era una proprietà di Malatesta si è data un po' l'idea si è data un po' per scontato che fossero a Gradara la moglie in modo che il marito fosse più vicino a casa e Paolo e Francesca diventano amanti sembrerebbe appunto mentre stavano leggendo la storia di Ginevra e Lancillotto sembra che appunto lui l'abbia baciata e da lì hanno iniziato appunto a essere amanti non si sa esattamente in che periodo e quindi da lì appunto inizia la Tresca che però che però con il passare del tempo evidentemente inizia a dare nell'occhio qualcuno inizia a sospettare per l'appunto c'è chi pensa possa essere appunto un malattestino e quindi cosa succede? Succede che qualcuno informa Giovanni di questa cosa che c'era qualche piccolo sospetto qualcosa che non tornava allora Giovanni decide di partire una mattina probabilmente ben sapendo che Paolo sarebbe passato di lei poi torna indietro e gli scopre in flagrante mentre si stavano baciando al che sguaina la spada entra nella stanza erano nella stanza di lei e Paolo cerca di scappare cerca di scappare attraverso una botola ma sembra che il mantello gli si impigli in un chiodo e non riesce a fuggire Francesca si parla davanti alla Giovanni non si sa effettivamente se Francesca sarebbe si sarebbe potuta salvare dal dirà del marito se lui voleva solo uccidere Paolo o tutte e due il fatto sta che lei è la prima a morire viene uccisa per difendere Paolo e poi Giovanni furioso uccide Paolo perché non riusciva a liberarsi però c'è anche un piccolo dubbio che forse l'omicidio dei due amanti sicuramente sicuramente c'era la storia degli amanti e questo è appurato però si è anche ipotizzato in alcune fonti che ho trovato che sembrerebbe che forse forse l'omicidio fosse dovuto anche alla causa dell'eredità paterna perché sembra che il possesso del feudo di viaggiolo il padre non l'avesse ancora destinato a nessuno e probabilmente era ambito da entrambi i fratelli e forse anche questo ha spinto a questo omicidio magari si è unito di due cose forse e si pensa che siano morti a Gradara per l'appunto perché intanto ok era proprietà di Malatesta era vicino a Pesaro in più questa storia comunque aveva iniziato a prendere piede sul fatto di due amanti uccisi di cui a livello storico si sa pochissimo tra l'altro non si sono neanche certi del periodo si passa tra il 1283 fino al 1289 il periodo in cui potrebbero essere stati uccisi e si pensa appunto che questo silenzio sulla tragedia forse è dovuto al fatto che Giovanni abbia impedito di parlarne e quindi non ci sono atti che attestano questa cosa e quindi ecco non si è sicuri di questo di questo fatto però nel 1760 vennero ritrovati dentro la rocca durante uno scavo venne ritrovato un un sarcofago con dentro uno scheletro di donna con diversi monili che fanno presagire che fosse una donna nobile e quindi con la scusa che la storia comunque di Paolo e Francesca c'è sempre un po' stata soprattutto a gradare molto sentita questa cosa hanno subito dato per scontato che fosse lei in più dentro la rocca nei meandri della rocca è stato trovato anche uno scheletro di uomo ancora vestito in armatura e quindi hanno dato per scontato che fosse Paolo quindi si presume si pensa insomma che siano morti lì e gli scheletri che hanno rinvenuto siano i loro come ripeto non c'è nulla che attesta questa cosa però ne dobbiamo ringraziare Dante se sappiamo oggi la storia di Paolo e Francesca che comunque sia andata sappiamo che sono stati amanti sappiamo che sono stati uccisi e dobbiamo ringraziare lui perché l'ha inserito appunto nella Divina Commedia nel quinto canto dove appunto li mette nel girone dei lussuriosi perché comunque sono stati amanti però nello stesso tempo una cosa carina è che ok avevano la colpa però li ha fatti mettere insieme in modo che almeno fossero uniti comunque evidentemente comunque sia per quanto magari li abbia messi all'inferno in un girone di lussuriosi però li ha messi insieme forse perché anche la solitudine eterna sarebbe stata forse troppo per una storia così triste probabilmente e sembrerebbe addirittura che la storia Dante l'abbia scoperta nel 1304 c'è un'ipotesi insomma che sia stato che sia stata la figlia Margherita a raccontargli un po' ovviamente di quello che poteva sapere della storia di Paolo e Francesca oppure si presume anche che l'abbia saputo dal fratello di Francesca di cui è stato compagno d'Armi in una battaglia fatto sta che insomma noi dobbiamo ringraziare Dante se oggi conosciamo la storia di Paolo e Francesca sappiamo che sono stati amanti sappiamo che sono stati uccisi probabilmente sono stati sicuramente Francesca è stata ingannata aveva anche un po' forse tutte le ragioni per comportarsi così mi chiedo solo se per l'appunto lei non avesse scelto Paolo perché era la prima chance che gli era capitata l'aveva visto bello l'aveva visto ai tante dice è mio marito punto stop ti do il mio cuore appunto mi chiedo se magari fosse veramente cioè adesso noi non sappiamo ripeto se effettivamente questo inganno ci sia stato però calcolando quello che noi sappiamo io mi chiedo se forse fosse andato Giovanni ok non sei bellissimo ok sei zoppo però magari so che ti devo sposare forse forse l'avrebbe accettato meglio forse sarebbe sopravvissuta qualche anno in più quantomeno su Giovanni posso solo dire che io conoscendo la storia non ho mai appurato o non ho mai approfondito la figura di Giovanni leggendo il libro di Matteo Strucull lì vediamo anche un Giovanni che soffre vediamo un Giovanni che forse era veramente innamorato di Francesca ma non è stato capace forse nella sua permettetemi di tenere ignoranza del periodo certe idee che nel libro abbiamo visto che hanno separato la coppia ancora di più forse se vi si fosse fidato un po' di più di lei se le avesse dato un po' più di sostegno se non fosse stato forse così succubato e anche del padre magari forse la cosa sarebbe andata diversamente magari Francesca avrebbe dimenticato Paolo magari 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 col senno di poi non si può mai sapere come sarebbe andata certo purtroppo è una storia triste però io vi consiglio caldamente di andare a Gradara a fare un giro nel nel borgo a visitare anche il fuori del borgo io non ci vado da diverso tempo ma è comunque molto suggestivo visitare la rocca visitare il castello ve lo consiglio molto perché è veramente carino e detto questo io concludo qui il video vi ringrazio di avermi seguito spero che questa prima esperienza un po' più incisiva forse un po' più approfondita della storia vi sia piaciuta vi consiglio comunque anche il libro di Matteo Strucull che è molto bello ovviamente anche lui stesso ha affermato che purtroppo essendoci tanti punti bui ha dovuto anche lui metterci del suo quindi diciamo che già si sa poco lui ovviamente ha dovuto aggiungerci ha dovuto romanzarla la storia che comunque sia il giorno d'oggi è quella cioè non è che ha inventato cose di più di quanto già non si sappia e vi consiglio di leggerlo fatemi sapere se l'avete già letto se vi è piaciuto se a voi piace la storia di Paola Francesca se avete visitato Gradara insomma fatemi un po' sapere cosa ne pensate cosa se la storia in sé vi piace se se magari conoscete qualcos'altro di questa storia che non ho citato fatemi un po' sapere voi io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui ripeto spero che il video vi sia piaciuto spero che col tempo migliorerò anch'io un pochino di più a livello di informazioni di tutto io vi ringrazio tantissimo vi auguro una buona serata il sole sta tramontando meglio quel sole che non c'è perché oggi piove vi ringrazio tanto di avermi seguito e vi aspetto sicuramente a un prossimo vi aspetto a un prossimo appuntamento un bacione a un prossimo Grazie a tutti.